Oggi abbiamo avuto a Scigliano una gradita sorpresa, ci è venuto a trovare il nostro amico, c'era stato già una ventina d'anni fa, Paolo Marra, con la sua bella trasmissione Parliamoci Chiaro. È stata una visita bella e importante secondo me perché la trasmissione va a rivedere, a riscoprire quello che è l'antico dialetto nostro, quindi ha intervistato una serie di persone anziane che sono depositarie della sapienza antica e del dialetto antico. Con alcune signore ha preparato delle bellissime ricette ottime della nostra tradizione, quelle che noi in dialetto chiamiamo tagliarine cuciceri, le tagliatelle con i ceci, però fatte come si faceva una volta, con il finocchio selvatico, con tutti gli aromi di un tempo. Da un'altra parte invece hanno preparato gli gnocchi al forno che anche in questo caso sono stati preparati con la maestria di un tempo. È stato un bel evento perché la gente ha partecipato e la cosa bella da vedere è che ci sono state persone che diciamo già con una certa età che sono venute per fare il selfie, quindi in epoca moderna insomma con Paolo e dei ragazzi che ancora fanno le scuole elementari e medie sono venute là a dire Paolo ma questo personaggio, quest'altro personaggio, questo significa che Paolo è un personaggio, è un attore, un artista che diciamo è trasversale su tutte le generazioni, dai piccoli ai più grandi, quindi è una cosa di cui siamo stati molto contenti e speriamo come dire di avere altre occasioni di questo genere sul nostro territorio.